Finalmente ci rincontriamo, Gianni. È un onore riaffrontarti, Salvo. Allora, hai capito la logica di Shoujo? Non credo molto. Conosco gli anime meglio di te. Solamente perché ti guardi un padriaccio che si trasforma, è un idiota che vuole diventare Okai, che questi non sono. Ripetelo. Naruto e Goku. Quanto schifo. Non puoi battere Town of the Time. Town of the Time. Blocco il tempo e ti distrugga. Puoi usare ogni trucchetta. Non mi hai fatto male. Mi hai solamente rotto una maglietta. Anzi, meglio, metà della maglietta. È vero. Allora. come fa a muoversi nel mio tempo? Come fa a muoversi nel mio tempo? Come fa a muoversi nel mio tempo? Mundo. Come cavolo fai, Calvo? Tu non conosci Shoujo? Lo so. Ma ogni stand ha il suo punto debole. E il punto debole del tuo stand è il tempo. È per questo che ogni volta che lo usi, tu perdi un po' di sangue dalle tue mani. Tu l'hai fatto cazzo apposta. Prendi il mio tempo. I miei compagni, Fabrizio, Genovese, Carselli, sono morti in battaglia per me. Io li devo onorare. Le loro gesto mi hanno dato la forza di uccidere il tuo migliore amico è Katia. E' il tuo. Non mi importa. Sto' un'ofta tua. Io vivrò per la mia vita. Salvo. Addio. Gianni. È morto.